Sit in congiunto delle sigle sindacali di polizia penitenziaria in piazza Barbacani a Vasto per l'emergenza della casa lavoro. Gli agenti in servizio da tempo lamentano una carenza cronica di personale che rende la situazione insostenibile. Doppi turni, mancanze di ferie, difficoltà di applicare correttamente le procedure per garantire la massima sicurezza agli operatori in servizio e agli stessi detenuti. Si lavora con grandi difficoltà e sotto stress. Vasto è la punta dell'iceberg, noi abbiamo la situazione peggiore in Italia, la carenza più alta in Italia di personale, dati ministeriali perché non sono i dati nostri. Noi infatti consideriamo una carenza di almeno il 50%, il ministero dice una carenza del 35% che comunque è la carenza più alta in Italia. A questo si aggiunge la particolarità dell'istituto di Vasto, è una casa lavoro, quindi ha gli internati, con tutte le problematiche che porta avere degli internati senza poi garantire a queste persone un lavoro, un'attività che possa in qualche modo rimettere nel circuito della legalità. Oggi ormai siamo in una situazione indescrivibile, le strutture sono vecchie, sono cadenti, il personale è carente, i detenuti sono tantissimi, non c'è stata una cosa che fa bene oggi. Una situazione resa ancora più grave dai detenuti con problematiche psichiatriche. Anche questo è un problema, nel problema che rischia di esplodere perché non c'è una vera assistenza al detenuto che ha difficoltà anche mentali, ci vorrebbe un'assistenza continuativa dell'intera giornale, un programma di sviluppo trattamentale, insomma qualcosa che cambi un po' lo stato di detenzione di questi soggetti. Il personale soffre tutti i giorni, viene continuamente aggredito, non ci sono risposte. Noi appunto oggi siamo qui, oltre che per manifestare e cercare una soluzione a questi problemi, anche per sottolineare la nostra vicinanza al personale in segno di solidarietà per tutte le vicende che subiscono quotidianamente. Intanto il prossimo 21 settembre alle ore 16 presso il municipio cittadino si terrà un consiglio comunale straordinario per discutere proprio delle emergenze riguardanti la casa al lavoro di Torresinello.